È una lista che risponde a quelle che sono le caratteristiche del Partito Democratico, un partito che candida esperienza, quindi i consiglieri regionali uscenti, ma candida anche nuove figure, amministratori, dirigenti del partito ed anche componenti della cosiddetta società civile. È un partito che ha costruito questa lista a livello più legale per rispondere a tutte quelle che sono le esigenze dei cittadini per poter rispondere ai loro bisogni nell'interesse comune. Chiediamo di aver costruito nel complesso una lista che possa essere competitiva e portare alla vittoria il patto per l'abuso e il candidato del Presidente.